Fare gli shooting con le donne vere è un'idea che abbiamo avuto circa tre anni fa. Crediamo che la moda sia un sogno che si possa regalare a tutte le donne, qualsiasi taglia abbiano, qualsiasi età e qualsiasi budget. È una iniziativa che è stata apprezzata tantissimo dalle nostre elettrici, sono tantissime che ogni settimana si candidano per partecipare ai nostri casting e soprattutto dopo questa giornata speciale trascorsa sul set con noi ci scrivono entusiaste perché in quella giornata hanno scoperto qualcosa di sé, hanno maturato una grandissima autostima. Abbiamo pensato di regalare, di offrire con questa iniziativa con Charity Stars una giornata sul set di Donna Moderna. Partecipate numerosissime, è davvero molto semplice basta digitare www.charitystars.com dal 18 giugno al primo luglio e fare la propria donazione. Con questa iniziativa abbiamo deciso di aiutare la Onlus Pangea che tra le più impegnate sono dei temi che sta più a cuore a Donna Moderna che è la violenza sulle donne. La Fondazione Pangea la vita riparte da una donna, non è un claim ma è un modo di fare. Insieme a Donna Moderna con le donne moderne per riuscire insieme a risolvere un problema che ancora oggi affligge troppe donne in Italia. Una donna su tre subisce violenza all'interno di casa, sono 7 milioni le donne che subiscono violenza in Italia. Partecipando ad un casting che si può acquistare con una donazione su una piattaforma che è Charity Star potrete donare la cifra che crederete opportuna perché acquistando quello spazio divertente, acquistando l'opportunità di vivere da donne moderne con Donna Moderna è un momento di gioia, potrete insieme aiutare tante donne che in Italia ancora subiscono violenza. Facciamolo perché è vero e tutti insieme diciamo basta alla violenza contro le donne. Grazie Donna Moderna, grazie di cuore veramente. Grazie Donna Moderna. Mi sono diventata tantissimo grazie Donna Moderna. Grazie Donna Moderna.